Salve ragazzi, siamo tornati qua in Minecraft e siamo qua con questa custom map che vedo che è molto desiderata da tante persone e volevo provare sto tesoro del triangolo per vedere come era, come magari mi divertiva un po' era bello, magari anche a voi vi piaceva e abbiamo un ospite qua assieme a noi uno zingaro oh non mi faccio vedere che cazzo vai dai vieni fuori guarda la schiena X-Men vabbè niente abbiamo qua delle conquiste, degli obiettivi da fare e penso che possiamo già cominciare allora aspettate guarda un attimo no cazzo sto facendo guarda un attimo l'obiettivo allora crea un generatore di cobblestone espandi l'isola principale fai una casa nell'isola principale metti 15 vetri nella casa fai l'acqua infinita fai 10 punti di esperienza fai coltivazione di grano anguria canna a zucchero e zucca craft al pane cattura 10 pesci conquista conquista cazzo stai facendo e ti viene in sottofondo conquista tutte le tre di ciso trova un diamante una di reston un oro un ferro un carbone un lapislazuli raccogli 5 frecce e crafta un arco 5 cartelli 10 scale fai un fungo gigante rosso trova un ocelot accoppia 2 ocelot incanta una spada una pala un piccone trova le 4 leve e trova il tesoro del triangolo ok qua sono tutte direi che possiamo cominciare perchè c'ho due cubi di vabbè un altro zingaro guarda che si nasce dentro l'acqua cos'è che abbiamo c'è un libro benvenuto vediamo il libro allora benvenuti su il tesoro del triangolo tutte le informazioni che servono per completare la mappa e troverete sul topic del forum dove avete scaricato la mappa sezione regole challenge seguite su youtube gioarsi col cazzo buona fortuna con la mappa ok vaffanculo c'è qua letti allora c'è un sacco di lava teniamolo senza sprecarla no aspetta chissà perchè lo chieni te eh lo so io lo so penso che sto albero si potrebbe già rompere no tiriamolo giù aspetta ti doi due pezzi aspetta facciamo così allora non so da dove gliciare sai non so se per dire scavare un po' di terra no vai prendi prendi tranquillo e mi li dai dopo in caso se ho fame vabbè prendiamo il legno vabbè intanto inizia la musichetta a scassarmi si io l'ho tolto da fastidio sinceramente foto sulla cesta mi metto che cazzo fai ti vedo ti vedo che passo in mezzo allo schermo guardalo sto ioto invece di rompere guardalo oh non hai preso raccordi no no ho preso ho preso lì vedo che prendo due cubi di terra vedo quanto legno sinceramente li odio sti alberi perchè non devo andare su cioè devo scalare ma smetti mi sono anche fatto male sta bene guardalo alla fine ho guardato in che modalità stavano giocando facile dai va bene facile di sicuro scriveranno noob facile noob e può essere ma perchè non ti togli dei coglioni ecco bravo dai oh l'avevo appena rotto c'è altra legna si c'è ancora come facciamo a prendere questa terra per fare la casa cioè la casa non la voglio fare di fango a merda però è già diventata notte e boh ma non se non sbaglio non spawnano cioè devono essere per forza lontani almeno almeno 25 cubi da noi per spawnare però se non ci danno neanche un alberello non faccio anche altri cuberi io vengo dalla cia non c'è il cubetti è non è bello neanche un alberello non c'è guarda ancora legna dici che è abbastanza cosa? legna no ma prendiamola tutta poi in caso poi quando espandiamo quale l'isola ne impiantiamo altri cazzo non vedo niente ehi metti aumenta la luminosità ehi metti aumenta la luminosità e come fa non vedere niente? se ne vede brillante si brillante eh si c'è un armato riesce a prenderla tutta non so più ah no ecco un alberello un alberello mi è arrivato com'è che si può buttare? qualcuno io ho fatto un salto oh qua legna me lo rubi tu me lo rubi tu c'è più ora ne ha lasciato uno dove? cazzo non vede? cominciamo a cadere perchè le foglie non stanno in aria da sole ok non c'è più legna io scendo ahia niam 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 anche ruttato quanto terra credo che prendiamo questa terra invece no ne hai lasciato uno e beh lascialo morire da sole bello che non se ne è e penso un altro infatti ma dove sei? non ti vedo sono andato veloce a vedere questa roba che cosa? un bel posto per la canna mi vedi? eh? mi vedi? nell'isola luminosa no no vieni qua non esplorare già da solo così neanche il tempo di iniziare prima lo facciamo qua Ughhh tuuuuunu che blir qui negli acqua nessuna ok shall we ok le cazzo sai sotto no! oh che cazzo incarnato po' chiudi se non c'è la pella roba, caldo sotto se non accadeva ora cerchiamo di non far entrare l'arco vediamo la terra che c'è qua ok c'è l'arco c'è il... com'è che si chiama? la pisla dove? qua uuuuuh aspetta un dei dita furtivo oh cazzo acqua qui ci fa piena cosa? aspetta non rompere questo cazzo 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 No, non volevo chiederlo, dovevo farlo, dovevo ingrandirlo, ok io non so come si fanno gli oggetti, si si adesso ti dico un covo, no si è chiuso, cosa, guardi che, che, che cacchio, oh, chiuditi, guarda, guarda, lì esce acqua, non ho capito come male, come non fai uscire l'acqua, oh, vaffanculo, questa acqua del cazzo, una roba che sta già quasi per finire il video, abbiamo fatto un cazzo di bello, vediamo questo, ok allora, adesso faccio diventare legno, normale, faccio un piccone, ma cazzo si fa, cosa, o qualunque cosa, aspetta, io faccio il piccone di ferro, cioè di che cazzo sto dicendo, perché, perché mi dice più due danno d'attacco, cos'è, boh, sarà bella mano, ah, ho buttato nel, ok, allora, in questo non posso fare niente, quanto si può spandere ancora, ah, eh, no, no, cosa c'è fatto, no, sto qui dentro, ecco, e facciamo che le spandiamo fino all'ultimo boh, cioè fino all'ultimo cazzo, oh cazzo, ho fatto cadere la terra, ok, qua si può ancora spandere, sì, vero? eh, fino a qua dove sono io, ok, cazzo, oh cazzo, oh cazzo, stai già per bestemmiare, stai già per bestemmiare, hai bestemmiato, no, no, non ho bestemmiato, hai bestemmiato, non è vero? no, oh, morcodio, no, non ho detto morcodio, ok, dopo, ho fatto per dire orco, però non ho detto, è vero, è vero, è bestemmiare, guarda, vale molto alto, che cazzo, non capisco il cazzo, poi l'acqua mi viene ad osso, poi vedo te che io entro nel tuo personaggio, che cazzo, cosa è successo, sono dentro la terra, aspetta, ok, che non cade, che non cade, cosa? che che palle farei? era meglio fare il livello con la lava, no? ma cosa? io tipo ogni volta che dobbiamo scavare così la lava, tutti morti oh, guarda vedo qui non si è fermata ecco, fermate no, non è vero ho perso un cubo di terra ecco, fermate l'acqua ok, lì c'è l'acqua ancora cazzo, fai ok questo? no, 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 no che c'è un coglio c'è una piccola scalettina ok, l'apizzolazione ce l'abbiamo lì cazzo dentro e le cose, come si chiamano però non abbiamo il carbone vabbè, possiamo usare l'antracite no, non abbiamo proprio questo ah, ah, com'è che si fa il piccola? no, ma non farlo, non fare niente ce l'ho già io, ce l'ho nella chest se lo vuoi spada? no, ma farlo solo quando ho iniziato adesso non andiamo più a esplorare adesso vediamo un attimo come ha lasciato gli stichetti ok vediamo un attimo come cosa possiamo fare di terra quante ne abbiamo? non tanta ah, 25 ok, ma che possiamo fare chissà cosa ok, andiamo là sotto ma lì, se non sbaglio, lì è il tesoro, eh senza le leve non possiamo prenderlo cioè non possiamo entrare ma io non c'è stato quel tesoro e penso che è quello poi ci sono le isole accanto ma scusa, quell'albero lì non si è tolto ho capito ok ce ne sono rimasti due fights potete prendere un po' di terra no andate a fermo, non venire cazzo prendilo l'ho preso io che c***o mi è caduto porco giuda che p***o tipo mi son buttato come come ho rotto il pezzo adesso si toglie, non spero si si, si sto tagliendo perchè abbiamo 4 letti, non ho capito? ce ne avevo due io ah per 4 giocatori questo dici? e boh si può essere però troppi 4 già in 2 quel ci facciamo un casino affanculo e niente, vediamo un attimo qua ma possiamo provare a fare il generatore di cobblest sai che non mi ricordo più come si fa non so come si fa grazie mi dispiace dirvi che l'episodio è finito mi ha appena suonato il timer vado a fanculo, volevo fare il generatore di cobblestone ma mi dispiace non lo possiamo fare e niente ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao ciao